Il nostro anno musicale, grazie a Marilisa e a Luccio, e allora di me questo è l'album che stiamo presentando questa sera, arriva adesso l'inquadratura e il nostro Lucio Napolitano salutando ancora a Sedevita Camba che non è con noi stasera a causa dell'induenza che bloccherà domani anche l'abbiamo detto Valerio Scano, vediamo di avere Tony Maiello, il 14 recupereremo la puntata di pomeriggio con Valerio e anche con Valerio. Mario Bionde, vedi grande puntata, martedì 14, ma ammesso e non concesso, eh? Ammesso e non concesso canta lui, base Luca Napolitano, ammesso e non concesso, vai! Mario Bionde, vedi grande puntata, martedì 14, ma ammesso e non concesso, vai! tra i miei sogni fino al giorno, in cui sveglierò. Deciderò di come tornare a te, senza pensare adesso, immaginami volermi accanto, adesso è il nuovo concetto, che tutto resti incontrollabile. Incontrollabile. E io, cammino con te, senza chiedermi come mi trovo e dove arriverò. Nella coerenza di chi pretende un equilibrio, anche l'aria è perso. Solo tra i miei sogni fino al giorno, tu mi abbaglierai. Deciderò di come tornare a te, senza pensare adesso, immaginami volermi accanto, adesso è il nuovo concetto, che tutto resti incontrollabile. Incontrollabile. E io, cammino con te, senza pensare adesso, rispetto come un graffio che non lascia tacciare. E adesso sono tra i miei sogni fino a quando tu mi abbaglierai. E io, cammino con te, senza pensare adesso, immaginami volermi accanto, che tutto resti incontrollabile. E io, cammino con te, senza pensare adesso, e poi immaginami volermi accanto, incontrollabile. Grazie. 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 Grazie a Luca Rapportano per farci un applauso. Grazie a tutti. Luca Rapportano per farlo in vacanza in estarte, perché vogliamo ancora sentire la voce di questo giovane artista. Luca Napolitano, grazie. Luca Napolitano, grazie. Luca Napolitano, grazie a tutti. Luca Napolitano, grazie a tutti. Luca Napolitano, grazie a tutti.